Il Comune di Fossombrone fa parte del progetto itinerario della bellezza e noi da cinque anni gestiamo sia gli uffici di informazione turistica che i servizi museali, per cui i luoghi, le sedi di questa mostra sono permanentemente gestite dal nostro personale e quindi c'è una collaborazione diretta, e anzi poi abbiamo avuto anche l'incarico di seguire il servizio di vigilanza e di assistenza ai visitatori per cui abbiamo fatto anche nuove assunzioni proprio in questi giorni, quindi è una collaborazione proprio operativa. Nello stesso tempo il progetto della mostra di Giuseppe Diamantini rientra nel filone più ampio del progetto itinerario della bellezza, con il quale noi intendiamo valorizzare questi territori, ma soprattutto far conoscere e valorizzare le eccellenze e le bellezze del nostro territorio dal punto di vista ambientale e culturale. Il turismo è importante, ma soprattutto è importante rendere partecipe la cittadinanza dei beni culturali che la città conserva. I beni culturali secondo me servono per accrescere la consapevolezza dell'appartenenza a una determinata città, quindi sviluppare l'identità cittadina. Questa grande mostra, possiamo dire veramente grande mostra, che si sviluppa in due sedi, la chiesa di San Filippo e la pinacoteca civica, propone all'attenzione Giuseppe Diamantini che è uno dei pittori più importanti che la città di Fossombrone ha conosciuto. È una mostra importante, una mostra impegnativa anche per un comune tutto sommato piccolo come il nostro, anche da un punto di vista economico se vogliamo, ma qui devo ringraziare anche la regione che è intervenuta pesantemente a livello appunto di contributi. E quindi ecco, come dicevi tu poco fa, è un ulteriore spunto per eventuali turisti, visitatori, per venire a vedere Fossombrone, non solo la mostra ma anche tutte le altre realtà che la nostra città offre, non solo dal punto di vista artistico e culturale, ma anche paesaggistico, voglio ricordare non solo le cesane piuttosto che le marmitte dei giganti, quindi è un po' un nuovo biglietto da visita per la nostra città che viene tra l'altro anche alla fine, speriamo, di un periodo estremamente difficile per ovvi motivi, per cui ci auguriamo che sia anche un piccolo segnale di ripresa e di rinascita dopo gli ultimi mesi piuttosto difficili. Intanto penso a scoprire un artista che assolutamente non è noto al grande pubblico, comunque poco noto, che noi abbiamo cercato di restituire in maniera monografica, perché è un artista che ha una straordinaria attività di incisore, per cui forse è ancora più noto che come pittore e che sarà documentata in maniera anche con un catalogo ragionato, ma anche con molte incisioni in mostra, però abbiamo fatto un lavoro di ricerca dove troverete moltissime novità, ma anche mettendo insieme le conoscenze fino ad oggi, su lui come pittore. E quindi è una mostra in cui in maniera monografica scopriremo un artista di grandissimo successo nella Venezia del secondo seicento e che ha ancora molto da dire a tutti noi.